L'XBOX ho visto 4.50, vabbè sui 5 euro. Questo deve aver spawnato qua. Eh ma devo andare a mid, mid bar di là. Perché qua ne ha spawnato uno ma... Ma cazzo sono tutti? In tre sopra, immaginavo infatti. Mi sa che non arrivo in tempo, tra l'altro. Non mi tirava l'evento. Non hanno finito il gen, questo è ottimo però. È molto ottimo anzi. Ecco perché non si fa mai un gen a 3. Perché se non lo complet... A parte che qui avrebbe dovuto completarlo a questo punto. Ora lo posso difendere tranquillamente. Mi prendo un sacco di value per ecco di dolore. Loro si sono droppati tutti quindi non lo possono fare. Un per cento di speed. Non so dire se è buono questo danno onestamente. Non so dire se è buono questo danno onestamente. Non vai giù ma... Vorrei hittarlo con un paio di coltellini per prendermi lo speed ma... Ma cos'è sta roba? Ma cosa fai? Ma vieni qua dai. Pagliaccius Maximus. Non so costa anche questa donna in un per cento di speed ma se missi un coltellino ti rallenta... E anche solo ferire ti rallenta... Beh... Merda totale. Trovo abbastanza merda totale. Non so non mi piace proprio per niente questo calmimento che gli hanno fatto. Povero Trixt. Stava così bene dove stava prima. L'hanno dovuto letteralmente ammazzare poverino. Prima magari era frustrante per... Per i player che ci giocavano contro. Siamo straveloci ora. Gneum. Gneum. Che bel cazzo c'è. Il problema è questo. Facevo comunque prima a atterrarlo a coltellini. Capito? Ho smetto il tasto. Forse sono riuscito a prendere il tasto semplicemente in tempo. E quindi mi ha fatto l'animazione. Non è diventato più forte. Secondo me no. È un M1 leggermente diverso. Brava. Fai un altro slow medium volt. Per i perk? Per i perk ci sta. Non è male come killer in sé. Non è debole. Però non è divertente per me. Capito? Cioè a me non mi diverte di giocarlo. Tutto qua. Ok. Qua li abbiamo asfaltati. Per quanto è stato velocizzato nel 4.6. È stato rallentato completamente nel chase. Totalmente distrutto secondo me nel chase. Il suo problema è questo adesso. Perché devi considerare che ci metti... 4 trinciate in più per atterrare. Perché prima era 6 e adesso sono 8. Per ferire e atterrare. E comunque gli spari più lentamente. Dove prima comunque gli sparavi molto velocemente i proiettili. Proiettili. Quindi. Non so. Non so. Top 5. Abbiamo fatto un video su YouTube. Vedo che babbo. Con tutta la tier list. Non mi ricordo esattamente chi avevo messo. Sicuramente Nurs e Blight sono i primi due. Con quello di video. Bah. Ribrezzo puro. Basta. Rickstar ha eliminato dalla mia lista dei giocabili. Abbiamo fatto guckenő Bürger tube. No. No 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 Grazie per la visione!